Molti hanno evidenziato giustamente gli errori commessi dal governo Conte nella gestione della pandemia. Errori che ci sono stati sono stati anche gravi. Pensiamo alla mancata predisposizione di un piano pandemico, pensiamo ai ritardi nella fornitura di presidi di sicurezza oppure all'adozione di una logica e di una linea della fermezza che si è rivelata suicida sul piano economico-sociale o pensiamo ancora alla mancanza tutt'oggi di un adeguato protocollo di cure. Eppure c'è stato un altro errore ancora più grave di cui non parla quasi nessuno e di cui sembra non si sia reso conto neppure il nuovo governo Draghi. Ci riferiamo al chiodo fisso a quell'autentica ossessione per la dimensione chiamiamola così spaziale dell'epidemia e per la deliberata ignoranza della sua dimensione anagrafica. Se ci fate caso tutta la strategia adottata ad oggi contro il Covid-19 ruota attorno a un concetto che è di apparente elementare buon senso e cioè teniamo distanti le persone. Da qui il lockdown, da qui il distanziamento sociale, le mascherine, il coprifuoco, la chiusura delle attività commerciali, la chiusura delle attività ludico-sportive, quindi palestre, piscine, scuole. Eppure c'era e in verità c'è ancora un altro terreno su cui si poteva combattere la sfida in modo molto più efficace ed è il terreno del tempo. Ci spieghiamo meglio. Se prendiamo uno dei report più attendibili che sono stati pubblicati dopo la prima ondata ed è Data Room di Milena Gabanelli di metà settembre 2020, vediamo come il tasso di letalità del virus, quindi stiamo parlando del rapporto tra deceduti e contagiati, per una influenza normale è pari allo 0,1%. Per una influenza, si chiama virulenta, un po' più forte, è dello 0,4%. Mentre effettivamente per il Covid il tasso di letalità sale notevolmente e si assesta intorno all'1-3% a seconda del numero di contagiati che si prenda come riferimento e che non sono mai in realtà conosciuti in maniera precisa. Però c'è un però. Se noi ci focalizziamo sul tasso di letalità, concentrando l'attenzione a livello di fasce di età, scopriamo un dettaglio decisivo, e cioè che il virus è cattivissimo con gli anziani ed è quasi innocuo verso i giovani adulti. Può aiutarci a capirlo un altro testo, estremamente attendibile, perché viene da una fonte di quelli ufficiali e credibili, che è l'Istituto Superiore della Sanità, il quale il 10 marzo del 2021 ha reso noto che il tasso di letalità del Covid-19 è dello 0% fino ai 40 anni d'età. Diventa dello 0,2% dai 40 ai 50 e dello 0,6% dai 50 ai 60. Quindi possiamo dire che dall'età 0 all'età 60 il tasso di letalità del Covid-19 è realmente sovrapponibile a quello dell'influenza, oppure, diciamo così, nella parte più alta di questa fascia d'età 50-60 anni dell'influenza virulenta. E invece aumenta sensibilmente per le fasce di età che vanno dai 60 in su. Diventa del 2,7% dai 60 ai 70 anni, del 9,4% dai 70 agli 80 anni, addirittura del 19 o del 26% per coloro che sono realmente molto anziani, quindi che hanno 80, 90 o comunque un'età che si approssima ai 100. Quindi la morale della favola qual è? è che sono gli anziani le vere vittime potenziali che andavano e vanno ancora massimamente tutelate. Tutti gli altri soggetti rischiano di morire di Covid né più né meno che per una banale influenza. Guarda caso parliamo tra l'altro della popolazione, del target di cittadinanza, che comprende in gran parte gli studenti e i lavoratori, quella che è definita usualmente come popolazione attiva. Per questo il modo in cui i media generalisti continuano a raccontarci delle centinaia di migliaia di morti contiene una gravissima omissione, che è l'età media degli stessi. Un'omissione che in realtà è ingiustificata e che è fondamentale invece conoscere, di cui è fondamentale rendersi conto, perché da qui deriva l'unica logica conclusione, e cioè che l'epidemia doveva e dovrebbe essere affrontata con un approccio non tanto geografico, quanto piuttosto anagrafico. Quindi ogni singola contromisura andava presa e andrebbe presa e andrebbe calibrata, cercando di isolare, curare, proteggere le vittime preferenziali del morbo, consentendo a tutti gli altri, giovani, adulti, di continuare a vivere una vita il più possibile normale, sia pure ovviamente con le cautelle elementari che sono raccomandabili in un periodo come quello di oggi, in un contesto quindi epidemico. Se vogliamo tradurre in prassi tutto questo e vogliamo mantenere il sistema del semaforo che oggi va tanto in voga, e a mero titolo d'esempio ovviamente, in zona rossa potrebbero finirci semmai gli ultraottantenni, in zona arancione gli ultra settantenni, in zona gialla gli ultra sessantenni, o il vaccino, prendiamo il vaccino. L'antidoto andava indirizzato in via privilegiata e prioritaria a queste classi di età, e soprattutto a prescindere dalla professione che esercitano, con precedenza assoluta anche rispetto a giovani o adulti i quali esercitano comunque professioni e attività particolarmente esposte. Erano gli anziani che andavano massimamente e privilegiatamente protetti con il vaccino, più che non altre attività svolte magari da persone che appartengono a un target d'età estremamente meno vulnerabile rispetto al morbo. E aggiungiamo che dobbiamo tener conto di un'altra cosa, che la stessa percezione del rischio vaccino, che esiste come esiste per qualsiasi tipo di vaccino e per qualsiasi tipo di farmaco, la possibilità di controindicazioni, è molto diverso ovviamente per un giovane, per un anziano, proprio per le percentuali di letalità del covid che abbiamo appena visto. E questo lo dicono i numeri e lo dice la logica. Eppure, a dispetto dei numeri e della logica, tutto ciò non è stato fatto e continua a non essere fatto. Quindi viene da chiedersi quante morti e anche quanti fallimenti, se vogliamo spostarci dal piano personale al piano economico, ci saremmo risparmiati se avessimo scelto la strada della cura e della prevenzione, certo, ma anche di una reazione alla malattia, equilibrata e mirata sul piano anagrafico e non invece isterica e generalizzata sul piano territoriale, come purtroppo è avvenuto. Grazie.